Oggi parliamo di favole, una favola in particolare che ho creato io per il mio corso di livello elementare A2. C'era una volta una strega buona. Nelle favole le streghe sono spesso cattive, ma la strega Genoveffa era buona. Purtroppo Genoveffa era anche molto brutta. Ricordo quando era una bella principessa, prima dell'incantesimo. Alla pagina italianglot.com slash courses troverete altre storie come questa e tanti dialoghi con test di comprensione, vocabolario, grammatica, tantissimi esercizi, letture e tanto altro ancora.